Noi intanto siamo un sindacato di mutuo soccorso, quindi non crediamo di avere dei privilegi ma offriamo qualcosa in cambio di altro. Perché vogliamo un mondo basato sul mutuo soccorso, vogliamo una comunità basata sul mutuo soccorso. Abbiamo messo a disposizione di tutti i comuni d'Italia, di tutti i municipi, la nostra capacità professionale, che è comunque alta, per intervenire come consulenti tecnici in materia di sicurezza di prossimità, per dare agli eletti del popolo strumenti di linguaggio e di conoscenza per poter controbattere, per poter verificare dispositivi di sicurezza idonei a superare le criticità che i cittadini segnalano. Perché la sicurezza è un bene comune, non è l'interesse dello Stato a garantire l'ordine nei suoi recinti o confini. E questo è una cosa fondamentale per liberarci, per crescere, per evolvere, per portare tutto il popolo italiano a essere una cittadinanza attiva. Questa è una speranza, un impegno grande, che ovviamente ancora una volta ringrazio i carabinieri di ogni grado, che col cuore si mettono a disposizione del popolo, della bandiera.